Allora, calmatevi un secondo, ricomponetevi, fico un po' di mutande e rimetto, non so chi sia, è quella, allora, allora, ho detto prendi le pizzo della macchina, vedi come stai poi, ma anche un quasi, non si, è un qualcosa, allora, vi devo presentare, grazie, vi devo presentare un mezzo soprano, e me, per gettare il suo soprano, l'altra gettare non si ancora ha capito, stanno studiando, si è detto che Samat che sta facendo le analisi da dietro, che ci presenterà con la sua strana di data dolce, un brano tratto da Martina di Siviglia, una voce poco fa, io sono dolce, signore Siamori, e Giuseppe Pellini e tutte le altre, qui, per sbaglio, è lei, è la banda, è anche Castri, Grazie a tutti, grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.